Dopo il buon esordio di domenica scorsa al Palaterme contro Piacenza, il Montecatini Sporting Club è chiamato alla prima trasferta stagionale che corrisponde anche al primo derby regionale. Avversario dei ragazzi di coach Federico Barzotti sarà il Castel Fiorentino dell'ex tecnico rosso-blu Massimo Angelucci e dell'ex guardia Andrea Tommei. Castello, che è stato sconfitto nella prima giornata a Livorno, sponda Don Bosco, cercherà di sfruttare al meglio il fattore campo, visto che dopo mesi e mesi di girovagare per palestre potrà tornare a giocare sul parchè di Via Roosevelt, risistemato dopo alcuni lavori di ristrutturazione. Per i fiorentini che hanno nel pivot crotte e negli esperti in Montagnani e Bertolini i punti di forza, rientrerà dopo un infortunio anche il giovane Stefanelli. A meno di forfè dell'ultima ora, in casa termale non ci dovrebbero invece essere problemi di organico. Gabriele Giarelli e i compagni sono pronti a dare battaglia e a confermare anche lontano da casa quanto di buono si è visto nella prima uscita. Pala a due domani alle ore 18.